salve a tutti appassionati di youtube io sono let's play di super mario e oggi siamo tornati su super mario galaxy 2 bene iniziamo subito mondo sfavillotto e nell'episodio scorso abbiamo fatto il primo livello del secondo mondo oggi in questo episodio andremo nel secondo livello del secondo mondo cercando di finirlo bene partiamo subito allora la sincast ha completato rapide sospese o bocce di rocce rapide sospese dai bene non sapevo quale era il programma ragazzi ve lo devo dire non l'avevo programmato scusate per l'assenza di video che ho dei problemi di compiti quindi credo che entro il 15 settembre non farò più video che ne pubblicherò qualcuno che avrò già iniziato a fare però non farò altro quindi aspettate un po il 15 settembre un po più comunque iniziamo subito vediamo che arriva un altro non volere no aspetta 9 bene ragazzi partiamo subito su news super mario adesso come si fa a cambiare la visuale non si fa a cambiare la visuale non si fa a cambiare la visuale della visuale non si fa a cambiare la visuale non aff…. no 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 ci ciao ci ciao sto guidando mi è storto ma mi chiede una cazzo ma e ancora mi sono storto non mi è in quella percazza non sto guidare partiamo subito prendi 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 va bene bene ragazzi per chi mi segue da più di Star Wars Battlefront vi devo dire che Star Wars Battlefront per ora per ora non lo continuerò come ho detto le serie che ho lasciato un po' stare tipo Skyrim cioè allora Star Wars si fermerà per si fermerà per fino al 15 settembre un po' più là e invece Skyrim sarà un po' diverso perché credo che ho già troppe serie Skyrim lo so che l'ho iniziata prima di qualcuna però vorrei andare meglio in queste Skyrim la continuerò poi la finirò una di queste serie poi vi farò altre serie ovviamente Yoshi io credo è grande Yoshi vai Yoshi sempre Yoshi andiamo nel portale apapap chi ha vogliamo vai Yoshi noi non ce ne frega niente no Yoshi 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 ti voglio bene Yoshi poi ho intenzione dopo aver fatto Mario Galaxy vi spoiler un po' ho intenzione di fare una serie dei misteri di Super Mario Galaxy faremo tipo tipo un episodio per galassia sempre di cui guarderemo insieme cose che nessuno avrà mai notato delle mappe tipo ci sono dei puntini segreti o cose del genere quindi vediamo se funziona io ne conosco già qualcuno che non vi dirò su Super Mario Galaxy 1 su Super Mario Galaxy 1 no lo so se mangio trenta monete mi trasformerò scusami non ce l'ho oh cerca trenta monete e quando lo avrete trovate portamelo certo bello certo certo cere corre pa 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 papapapapapa papapapapa papapapapa papapapa 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 papapafa papapashi și forza xoshi grande xoshi xoshi andiamo dai d'è che io sinceramente sono negato in sta mappa sono serviamente negato L'ho già fatta altre volte Cioè, oddio, santo Oddio, oddio No, Yoshi Yoshi, ti prego, incursore a mela Incursore, incursore Io Da sto gioco, come ho detto, non ci giocherò Da mesi Anni No, robe del genere Quindi io non sono Troppo esperto Mi ricordo ovviamente Cosa ci sono dei livelli in cui ho passato Una buona parte Della mela fazia No, no Cazzo, cazzo, cazzo Yoshi, cazzo Yoshi, cazzo Calmo, calmo, calmo Bene Riprendiamo subito Scusate quindi per l'attesa del video Mi dispiace che stavo preparando Fuck Stavo preparando Degli altri video che pubblicherò Dopo Mario Galaxy Dopo un po' che parte Sono Tipo dei mini spe... Cavolo Dei mini speciali Dai Yoshi, non deludermi Yoshi Forza, forza Dai che... Sì, sì, sì 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 Grande Yoshi Vai Yoshi Sì Vedi che il peperoncino Infilato in bocca Lì sì Che fai casino Grande Yoshi Sì Dovrai in poi Se ho bisogno di un mezzo C'è il taxi Yoshi Gli infilo un peperoncino E inizia a bruciare Comunque è È inguidabile proprio Ovviamente hai tenuto le monete E abbiamo sbloccato Mondi Sono nuovi percorsi accessibili allo strano Mario Mario c'è una lettera per te Sono la scimmia bighellona Conosco tutti i giochi In un universo E mi annoio Per questo Ho inventato un gioco Tutto mio Raggiungimi presto Nella galassia Nuvoa lavatuffo Scimmia bighellona Ecco ragazzi Ve l'avevo detto Sono nuvoa lavatuffo Non negli episodi scorsi Quando l'abbiamo fatta Che non era completa Perché non aveva la coroncina Quindi Scimmia proprio Beh In questo episodio Non la faremo Perché Intanto per gli alas Continueremo Nella galassia Rapide e sospese Prenderemo le monete E da lì Finiremo l'episodio Finisco galassia Volta per volta No Piccanti salite Galassia Rapide e sospese Dai ragazzi Pian piano Ci avviciniamo Sempre di più A Bowser Per me Al centesimo episodio Arrivaremo a fine gioco Non lo so Ma Mi Ispira Buongiorno Moneta Devo ottenere Le più monete possibile L'associazione Salva tuo fratello E' ritornata Più agitata Che mai No 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 Grazie Yoshi Grazie Gumba sei veramente Cattu Tu non stai aiutando Associazione Palli sempre Sti Gumba Maldestri Bravo Yoshi Non lo mino No lo mino No lo mino Dai Quello non è più Comunicino Credo che lo hai dato Facciamo la salita piccante Quindi vuol dire Che sei tipo Un peluche Di Yoshi Rosso Sinceramente Un peluche Un peluche Di Yoshi Rosso Se Se Yoshi Rosso Viene raffigurato In questo gioco Come Yoshi Piperoncino Quindi vuol dire Che quando Tipo Comprì Yoshi Rosso Con le Yoshi Piperoncino Non è uno Yoshi Colorato E' uno Yoshi Che ha ingerito Tanto peperoncino Mi piace Sto pensando Non è Non è Non è Non è Non è Non è No Fuck Shish Shish No Ti prego Quante monete ho Ti prego Eh no Ma va a cacare Va Shish Al sugo No Ma Yoshi Mi manca anche le monete Si è messi proprio bene No 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 Si Sicuramente ragazzi Rifacciamo Che è meglio Non devo cercare di morire Mi dispiace ma Rifacciamola Perché Se muoio subito In quel punto Ho già perso Perché Arrivo a 30 monete Tranquillamente Proprio E il suo problema È dopo Comincio a faccia Sì Dai L'associazione Salva tuo fratello Cacca 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 Bowser te l'ha detto vero Di fare L'anti Per Togliare L'associazione Eh 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 Bumba Bumba Smettila Abbiamo Oddio Tutte le prove Tutte le prove Bumba Tutte le prove Sono contro di te Smettila No 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 Se non prendo la moneta Ecco Non sono contento Ma Yoshi Un po' di peperoncino Nesse Ti aiuta Ti fa solo bene Forza Yoshi Tutto piccante Voglio Cacca 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 No 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 Ho fatto bene Mi sono schiantato apposto Se non ci riuscivo Dio 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 Let's go Bom 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 Ecco Sto appunto È odioso Ci siamo Raga Ci siamo Basta non morire E ci siamo Ci siamo Bene La stella Riasci 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 Caldo Ok Che fame Mi dai 30 monete Sono deliziose Se mangio 30 monete Mi trasformerò Sì Che voglio incredibile Di monete Bene Nutritis Va nel lotto Ghiotto Perché Quelle monete Ho sprecato Due vite Per te Quindi Spero che ne valga Veramente la pena Vabbè Per completare il gioco Sì che ne valga la pena È apparso Un nuovo pianeta Oddio Sto pianeta Me lo ricordo Me lo ricordo È quello dove devo Acchiappare le stelle Su quei cosi Oddio Torna qui Torna qui Rana Rana Ecco Bene Rana 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 Torna qui Torna qui Tor Eh Stella 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 Rana Rana Ho già accappato Due tue campagne Non ho la paura Di accapparti Rana Rana A Bene Tre Rana Tu se la fa Tu se la fa Ecco Bra Bra Zitta 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 Bra Dov'è 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 L'altro C Rana Rana C C però Rana 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 Ti mangia Rana Tu sei l'ultima E ora verrai Arrestata E credo che non ti vedremo mai più Perché io si ti mangia Ole Ultima Perfetto ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo assaggiato tutte quelle Buonissime Ramacchie Ci siamo Abbiamo preso la stella Oh yeah E no Altre no 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 Se rispaunate No Grazie Questa è la seconda volta che andiamo insieme Bravo Portiamo a casa la nostra stella Galassia Rapide sospese Stella Argento Fra le cascate Hai ottenuto le staschegge Hai ottenuto delle monete Sei da dirmi Bene Hai già trovato delle super stelle Registreremo il totale di quante ne racconta Ah Là nell'insegna accanto al timone Se ti interessa Indica Anche dove si trovano le altre super stelle Dai ti tengo Galassia Galassia Bocce di rocce Sì lo so Nuvola batuffolo Lo so Beh Me ne mancano Una Che è quello Della batuffolo Più Due delle bocce di rocce Bene Direi che Bene ragazzi Per questo episodio È tutto Nel prossimo episodio Andremo a fare O il super gioco Della nuvola batuffolo O la galassia bocce Di rocce Allora Da Let's play di Super Mario Da Mario E da tutto il mondo Super Mario Aspettate Non parla meglio Da Let's play di Super Mario Da Mario Ciao Ciao Ciao